Inaugura martedì 7 marzo presso la parrocchia di San Rocco di Cesena l'edizione 2017 della Margherita d'Argento, il concorso nazionale di pittura, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per gli amanti dell'arte. Sì, questo concorso è strutturato in tre sezioni, la prima è quella della grafica acquerello, la seconda è del piccolo formato, sia il mini quadro e la terza è quella della sezione pittura. Credo sia il concorso più longevo d'Italia e questo grazie alla collaborazione di tante persone che contribuiscono a creare queste iniziative, soprattutto un ringraziamento doveroso agli sponsor privati che continuano a sostenerci. Tanti quadri esposti dal 7 fino al 12 di marzo per l'interesse non solo degli addetti ai lavori, ma anche di appassionati e di semplici curiosi. Ci sono clienti tra virgolette affezionati, però anche persone che si avvicinano per la prima volta all'arte e lo scopo di questo concorso è quello di far capire alle persone comuni l'arte contemporanea. Grazie. Grazie.